Chiedilo a Francis, ieri bambino soldato, oggi uomo che studia e lavora. Chiedilo a Suor Patrizia, che assiste a domicilio gli anziani soli di Pantelleria. Chiedilo a Giovanna, che in un quartiere difficile di Bari ha fatto crescere un doposcuola. Con l'otto per mille alla Chiesa Cattolica, continui a fare molto. Per tanti. Se non ci credi, chiedilo a loro. Grazie.